Ehm, ma aspettiamo un attimo, dove sono? Partiamo dall'inizio. Eccoci tornati qui a New Mano Adams, come sempre, stiamo andando in piscina. Stiamo andando al parco acquatico al chiuso perché c'è brutto tempo e quindi adesso faremo tutto il viaggio e ci rivederemo lì. Siamo arrivati in piscina, finalmente, ecco Gian, l'ha preso Gian nel vlog, e adesso abbiamo parcheggiato la macchina, stiamo entrando, non è neanche bel tempo, tanto è il coperto, anzi mi sa che è fatto apposta, è aperto tutto l'anno, dovevamo andare a quella all'aperto, solo che scome il tempo non è il massimo della vita, andiamo qua. Ehm, è bellissima lo stesso. Ehm, boh, ci vediamo dentro. Ragazzi, siamo dentro lo spogliatoio, c'è una roba fighissima, che in pratica ha un braccialetto. Questi? Aspetta, vediamo l'armaghetto 666 se c'è. No, non c'è. No. No, non c'è l'armaghetto. 666. Sì, c'è, c'è, c'è. L'armaghetto 666. Eccolo ragazzi, illuminati con fame, questo qui è pure mio. Ecco un altro mio. Dai, invocchiamolo. Dai, entriamo. Andiamo aspettando. Andiamo. Andiamo. Andiamo! 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 Siamo di nuovo qua Siamo di nuovo Siamo di nuovo Siamo di nuovo Siamo di nuovo Siamo di nuovo